Ciao a tutti, sono Tommaso Rosa e sono un social media marketer, trader ed investitore. Se vorresti migliorare la tua reach su Instagram, quindi diciamo le persone che raggiungi, mettiamoci dentro anche le interazioni se proprio non c'entrano, però mettiamole dentro, quindi se vuoi migliorare persone raggiunte, interazioni nei tuoi post o caroselli o altro, allora sei nel posto giusto. Inutile negarlo, i reel, quindi i video verticali, sono il contenuto più spinto in questo momento da Instagram. Una cosa che ho notato molto dai miei clienti è che li svalutano molto, perché magari pubblicano un reel pensando di ottenere X, invece ottengono Y, molto sotto le loro aspettative. Prima di iniziare col vero e proprio video però ti chiedo di lasciare un mi piace e iscriverti qua sotto al canale, così da aiutarmi a far arrivare questi contenuti a più persone possibili. Ok, andiamo a vedere i punti principali per aumentare la tua reach. Utilizza i trend. Ti sarà capitato magari di scorrere la home di Instagram e sentire il reel tutti con lo stesso audio, e vi sarete detti, mi che palle sto audio. Ok, vuol dire che quell'audio è in trend. Disclaimer grosso come una casa, non basta utilizzare un audio in trend per far andare a bere un tuo contenuto. Oltre questo, ovviamente, dall'altro lato della medaglia, è inutile fare contenuti in trend solamente perché vadano virale. Devi rimanere coerente con la tua nicchia, i contenuti che porti di solito e il tuo personaggio. Se parli di partita IVA, per esempio, come tanti commercialisti su Instagram, non metterti a fare un balletto. Come secondo punto andiamo a vedere le categorie di reel più spinte da Instagram. Sto parlando di reel, quindi contenuti video verticali, continuo a ripeterlo, che hanno come argomenti la formazione o l'intrattenimento. Vi sarà capitato di scorrere Instagram oppure TikTok e vedere un video che vi faccia ridere. Voi cosa fate? Lasciate like o lo commentate. Beh, i contenuti intrattenitivi vengono spinti di più proprio per questo motivo, perché creano più interazioni con gli utenti. Invece, per i contenuti formativi, sono contenuti verticali su una specifica nicchia e quindi molto spesso sono molto utili per le persone a cui sono riferite. Se utilizzate bene il contenuto e la CTA, call to action, quindi chiamata all'azione, non riceverete solo un banale like, ma anche un commento o un salvataggio del post, cosa molto importante. Se ti interessa iniziare a guadagnare e migliorare il tuo profilo Instagram, prenota una consulenza con me con il link che trovi qua sotto in descrizione, oppure scrivimi in privato. Sarò più che disponibile ad aiutarti nel miglior modo possibile. Visto che abbiamo parlato nel punto prima di CTA, quindi call to action, andiamo a parlare proprio di queste. Spesso chi pubblica il contenuto dà per scontato che il pubblico sappia cosa deve fare. Quindi è molto meglio chiedere direttamente al pubblico di fare una determinata azione, come seguirci, mettere like, commentare, salvare il post. Non abbiate paura di utilizzare la call to action. Chi ha studiato marketing sa benissimo quante sono importanti queste in un buon contenuto. È una pratica alla base, ma proprio alla base del marketing. Andiamo però a vedere delle idee di CTA, call to action, che potete utilizzare. La maggior parte delle persone utilizza la call to action alla fine del video, quindi quando il video sta per terminare mettono in segue per altri contenuti o salva il post per ricordatelo in futuro. O altrimenti potete inserirla nella descrizione del contenuto. Se oltre al contenuto la persona va a leggere la descrizione, quindi voi tramite il video andate a spingere a leggere la descrizione, nella descrizione potete tranquillamente inserire la call to action. Ovviamente non andare a caso, fai delle prove di dove il tuo pubblico specifico agisce di più, quindi se agisce meglio con la call to action nel video, quindi nel reel, oppure nella descrizione. Ti lascio qua sopra un video dove parlo di un altro argomento. Se ti può interessare, vallo pure a vedere. Ci vediamo in un prossimo video.